Buon pomeriggio amici e amiche di Vidi Casagiove, siamo con il Vice Presidente dell'Associazione, il colonnello Casagiove. I maestri e amici di Casagiove, questa banda musicale che ovviamente attraverso la musica manderemo i nostri segnali come aviatori, di fatto l'inno sulle ali dorate, proprio dedicato all'aeronautica militare. Noi come sindaco dell'aeronautica militare tutte le tradizioni attraverso la musica le porteremo in tutte le piazze della provincia di Caserta e Dostra. Io faccio migliori auguri, complimenti alla nascente come sezione perché già è affermata come banda sul territorio all'amico Martucci e agli altri colleghi che in effetti è loro familiare che è opera di una banda. Io ti ringrazio, un abbraccio a tutti quanti. Allora, capitano un attimo, un'altra domanda. Oltre alla musica, come volevo dire al generale, ora la chiedo a voi, ci sarà anche un allestimento di una mostra? Certamente, c'è una mostra ovviamente di oggettistica per quanto riguarda la meteorologia, c'è una raccolta veramente di pezzi rari che riguardano la meteorologia e non solo, di piccoli aerei, avremo una stand proprio dedicata all'aeronautica militare e qualche filmato da vedere delle brecce di colore. Ok, facciamo quindi un saluto ai lettori ed elettrici di Bibica Saggiovi invitandoli all'evento di scuola. Un saluto a Mimmo Petrillo, la vicepresidente che è fornente di assenza, rappresento per lui come vestitore della mostra. Ok, grazie al capitano Casacoglio. Grazie. 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 Grazie.